Il canale focus non si vede, ecco che fino a fatto e quando tornerà in onda Da qualche giorno a questa parte, il canale focus non si vede più al numero 56 del digitale terrestre. Al suo posto è subentrato un motor trend. . Che com'è facilmente intuibile dal nome sarà interamente dedicato al mondo dei motori e alle serie tv più famose del settore motoristico. Ma che fino a fatto focus e perché uno dei canali più apprezzati dell'intero panorama televisivo è sparito dal digitale terrestre? Di seguito, tutte le informazioni al riguardo. Che fino a fatto focus. La presenza del canale focus si basava su un accordo tra Mediaset, detentore del brand, e discovery per l'utilizzo del marchio. . Tuttavia, questo accordo è giunto al termine lo scorso 28 aprile e con esso anche la possibilità di vedere il noto canale di divulgazione scientifica al numero 56 del digitale terrestre. . Come anticipato, focus è stato sostituito da Motor Trends, canale che ha in palinsesto programmi televisivi come affari a quattro ruote, officine da incubo, American Shopper e Car Crash TV. . Al momento, dunque, il canale scientifico non è in onda. Sono in molti a chiedersi se questa misura sarà definitiva o temporanea e se sarà possibile tornare a vedere focus sul digitale terrestre. . Bene, gli affezionati del canale possono stare tranquilli, dal momento che è in atto una vera e propria opera di restyling di focus, che sarà visibile sul canale 35 del digitale terrestre a partire dal prossimo 17 maggio. . . Focus diventerà a tutti gli effetti un canale Mediaset e sostituirà Italia 2, che traslocherà la posizione 120 del digitale terrestre. . Focus tornerà in onda con moltissime novità. . . Alcuni dei programmi visibili su Focus fino a pochi giorni fa non saranno disponibili dal 17 maggio in poi, data dalla quale il canale scientifico tornerà nuovamente in onda. . . Questo perché Discovery avrebbe deciso di non cedere a Mediaset i diritti tv dei suoi format. . Ciò nonostante, ci saranno tantissime novità previste da Mediaset per il lancio del nuovo canale 35. . Quella principale potrebbe riguardare la presenza di Roberto Giacobbo, come rivelato dallautore Vole blog Davide Maggio. . Il vice direttore di Rai 2 e conduttore di Voyager ha recentemente annunciato la propria uscita dalla tv di Stato. . . Tuttavia, la sua presenza sul nuovo canale Focus non è stata confermata, ma neppure smentita, né da Mediaset, né dal diretto interessato. . Nei prossimi giorni se ne saprà certamente di più al riguardo. . 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